Benvenuti in questo nuovo video In questo video vedremo come cancellare degli elementi dalle foto con Photoshop Utilizzeremo 4 foto Ed in ogni foto andremo ad eliminare degli elementi Nella prima foto toglieremo la barca Nella seconda toglieremo queste persone Nella terza la torre Eiffel E nella quarta andremo a correggere degli difetti Delle imperfezioni sul viso di questa ragazza Gli strumenti che andremo a utilizzare sono due Il primo è lo strumento lazo poligonale Assicuratevi di aver selezionato lazo poligonale da qui Perché di default è selezionato il primo Quindi cliccate e selezionate lazo poligonale Il secondo strumento è in modifica riempi Vedremo anche come usare la lente di ingrandimento per ingrandire Per zoomare e allontanare le immagini Quindi selezioniamo la lente di ingrandimento Teniamo premuto il tasto sinistro E spostiamo il mouse verso destra per ingrandire E verso sinistra per rimpicciolire l'immagine Andiamo ad ingrandire la barca Con il lazo poligonale adesso andiamo a selezionare I contorni della barca e della sua ombra Non deve essere precisissimo Ovviamente più è preciso Migliore sarà il risultato Quindi assicuriamoci di selezionare tutti i contorni della nostra barca Ok Ci siamo quasi Quando avete finito andate ad unire la riga con quella precedente Vedrete che comparirà un cerchio Che vi indica che il tracciato che avete appena creato si andrà ad unire Adesso vedrete una linea tratteggiata luminosa Clicchiamo su modifica Riempi Le impostazioni possiamo lasciarle così come sono Quindi come contenuto Lasciamo in base al contenuto Adattamento colore Metodo normale Opacità al 100% Clicchiamo su ok La barca sarà sparita Clicchiamo su selezione e deseleziona Oppure possiamo premere ctrl d Allontaniamo E vediamo che adesso la barca non è più presente Possiamo fare la stessa cosa con qualsiasi parte dell'immagine Quindi ad esempio possiamo far sparire Qui In questo modo possiamo togliere oggetti dalle immagini che non ci piacciono Quindi possiamo rimuovere degli oggetti che non vorremmo fossero lì Vediamo ad esempio come funziona con delle persone Possiamo partire da qualsiasi parte dell'immagine che vogliamo tagliare Dell'elemento che vogliamo tagliare Quindi andiamo A ritagliare Ovviamente vi ricordo che più sarà preciso migliore sarà il risultato Quindi andiamo Allontaniamo Ok ci siamo quasi Perfetto Modifica Riempi Ok Seleziona Deseleziona Allontaniamo un po' lo zoom E anche in questo caso Gli elementi che abbiamo deciso di togliere sono scomparsi Proviamo adesso con un elemento più grande Quindi anche in questo caso Andiamo A tracciare il contorno del nostro elemento Cercate di restare più vicini possibili al contorno dell'elemento Ok ci siamo quasi Perfetto Clicchiamo su modifica Riempi Ok Selezione Deseleziona Allontaniamo l'immagine E anche in questo caso L'elemento è sparito Andiamo sull'ultimo esempio In questo caso possiamo vedere delle imperfezioni sul viso di questa ragazza Ad esempio abbiamo un neo qui Che ora è scomparso Possiamo andare qui E in questo modo possiamo andare a correggere Dei difetti del viso sulle immagini che andiamo a modificare Ad esempio se abbiamo scattato delle foto Ma ci sono dei difetti sul viso dei soggetti Possiamo correggerli in questo modo Grazie per aver seguito questo video E ci vediamo nel prossimo Grazie per aver guardato il video